Media Goal, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Sì, un po' è tutto. So che è stato un comienzo di campionato un po' brutto, perché per gli attaccanti non segnare è così. Ma sono tranquillo perché ho fiducia dei miei compagni, anche del mister, quindi devo dimostrare a loro chi sono e che posso dare troppo di più. Sicuro, perché come ti ho detto, per gli attaccanti il gol è quasi tutto, quindi se tu fai un gol trovi più fiducia. Sicuro che se posso fare il primo gol lo più veloce possibile mi sbloccherò e sarò ancora con più fiducia. La ultima parte del campionato in Argentina è stato un periodo che non aveva segnato, però aveva fatto tanti gol, quindi quello non si vedeva tanto. Adesso, certo, sì, penso che l'anno scorso era un campionato difficile, andavano tante cose male, quindi penso adesso che è stato un comienzo di campionato brutto, perché come ha detto, non aveva fatto gol, poi è arrivato infortuna, è stato due mesi senza giocare, quindi è stato un periodo brutto. Penso che alcune cose sì, alcune altre devo migliorare. So che sono ancora giovane, devo imparare tanto, devo ascoltare ogni mister che ho avuto, ogni compagno che parla sempre con me. Ho ancora 20 anni e devo imparare tanto, però penso che ho imparato altre cose bene. No, penso che per ora le devo dare tanto al Palermo, che ha avuto tanta fiducia in me, quindi sento ogni tanto che voi parlate di altre squadre, però io so che devo dare tutto qua. Penso che è un po' diverso, magari sono altre funzioni dentro il campo, però alla fine devo arrivare dentro l'area per fare il gol. Credo che in Argentina ho fatto un solo posto in tutto un anno e poi quando sono arrivato qua ho fatto il trequartista, la punta, ho giocato fuori, ho fatto diversi modi, quindi devo fare il meglio dove il mister pensa che posso dare di più. No, io adesso penso che il meglio di me può essere giocando la seconda punta. Poi se il mister mi dice che devo fare altre lavori, lo devo fare perché è il meglio per la squadra, però quando mi sento meglio è la seconda punta. No, io sono contento perché siamo tutti compagni e tutti abbiamo, penso, lo stesso oggettivo, poi ognuno ha il suo individuale, però qua tutti vogliamo portare il Palermo in Serie A, quindi sono contento quando Belotti fa un gol, quando lo fa Abel e quando lo fa Kailo, quando lo fa Barreto o qualsiasi, no? Sono contento perché tutti vogliamo portare il Palermo in Serie A e questo. Certo, sicuro, quando uno fa gol e poi per gli attaccanti è bellissimo segnare, perché non ti ho detto, se lo fa un compagno sono contento lo stesso. Speriamo, sì, di cominciare un 2014 con tutto quello che non ho potuto fare nel 2013, segnare di più, giocare ancora di più, dare il mezzo per la squadra, per il mister, per tutti i tifosi. Sicuro che devo lavorare per questo. Eh, magari sì, so che, come dice te, ho fatto magari delle assist o di occasione di gol pericolosa, però vabbè, per gli attaccanti, come ho detto, per essere importanti deve segnare tanto, quindi qua, se non segni, parlano magari non bene, quindi è preferibile segnare che fare un assist, però per me sono più contento quando li lascio fare a un compagno e non lo faccio io. Prima penso che tutti i compagni mi parlano ogni giorno, sempre magari con quelli che sono più vicini, che sono americani, che sono ogni giorno con loro, se no c'è anche Gennaro Troianello che parlo troppo con lui e sempre mi parla bene, mi vuole dare fiducia per andare avanti, quindi sono loro che mi portano sempre avanti. Poi l'obiettivo è migliorare ogni giorno, oggi in allenamento e dare tutto per Palermo, perché come ho detto prima, abbiamo un obiettivo è portare Palermo in Serie A. Sì, io oggi ogni allenamento che facciamo do il massimo, tratto di dare tutto per dimostrare al mister che voglio giocare, sicuro che sono altri compagni che lo fanno, però il mister deve avere una scelta di 11 giocatori e poi decide lui, ognuno dal massimo in ogni allenamento per giocare, quindi penso che così io voglio dare il massimo perché sempre voglio giocare ogni partita, sì, spero di sì, spero di sì, perché come ti ho detto voglio dimostrare quello che ho fatto in Argentina, fare tanti gol, fare tante partite bene perché voglio dimostrare a tutta la società, tutta la fiducia che hanno in me. No, prima non ho pensato un numero, penso prima a fare il primo e poi avere, quando mi sblocco sicuro sarei più tranquillo per fare il secondo e per l'insultanza penso di andare a abbracciarmi con tutti i miei compagni che sono sempre vicini a me e poi sicuro con la gente, con i tifosi, con i tifosi, scusa. Magari perché parliamo la stessa lingua e siamo sempre vicini e penso che è un giocatore fortissimo, dimostra ogni partita, per cui ho fatto 11 gol. So che anche Kyle e Belotti sono giocatori troppo forti, però con Abel mi sento più più dolce perché parlo sempre con lui, magari conosciamo un po' un anno in più che avevamo insieme e quindi con lui mi trovo meglio.